Cristin Chua, filipina nata a Calapanna nel 1981, in Italia dal 2000, fonda ad opera nel 2011 Delta Contract S.P.A. e attiva nella vendita di corpi illuminati, illuminati e illuminazione di esterni e interi. Poi abbiamo Berle al Benedetto Rione Scheai, è albanese, nata a Turazio nel 1985, sono giuste queste informazioni, perfetto, in Italia dal 1991, a Roma fonda nel 2012 Easel Laundry, una lavanderia industriale con servizi di noleggio biancheria. Il terzo finalista è Abdundao, abbiamo anticipato il vincitore che è stato a partire la slide.